Sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Giglio c'è anche il nome di un giovanissimo allenatore di Isernia che sarebbe all'esordio in Serie D. La notizia è più che fondata e anzi sarebbe al centro di un fitto colloquio tra i dirigenti, tra favorevoli e contrari. Il nome dell'interessato lo faremo solo più avanti. Per ora ci limitiamo a dire che è un giovane mister Isernino e che ha allenato con profitto in diverse piazze ottenendo sempre risultati lusinghieri. Un giochista pieno di entusiasmo che esposerebbe la causa gialloblu senza tentennamenti. Certo è una scommessa e anche di quelle forti ma al presidente Andrea Di Lucente piacciono le scelte che vanno in controtendenza con il sentire comune e il più delle volte. Queste scelte sono state azzeccate e premiate dai risultati ottenuti sul campo. Del resto basta guardare cosa è successo con Tommaso Coletti per capire che più che il curriculum contano le idee e la voglia di fare. L'alternativa al giovane Isernino è un mister boianese da adozione che la categoria la conosce molto bene avendola frequentata da allenatore e soprattutto da calciatore. Insomma l'idea di base di Di Lucente e soci è quella di affidarsi ad un allenatore molisano ma non è l'unica soluzione possibile e sì perché sul tavolo ci sono anche le proposte del DS Giglio che vedrebbe di buon grado sulla panchina gialloblu un suo uomo di fiducia o comunque un tecnico che graviti nella sua sfera tecnica. L'ultima parola è di competenza di Di Lucente. Toccherà al vulcanico presidente scegliere il successore di Coletti. Toccherà al vulcanico presidente scegliere il successore di Di Lucente.